Ciao ragazzi, ben arrivati in questo nuovo video nel quale andiamo a confrontare la medio formato, la GFX 50S Mark II o la seconda serie, con una fotocamera molto particolare, molto diversa, che è la Sigma SD4 con sensore APS-C. Chiaramente è un test folle, ve lo diciamo subito, un test insomma così, prendetelo anche come forma di intrattenimento, un APS-C contro in medio formato, francamente la partita sembrerebbe già vinta a tavolino, ma vedremo se ci sono delle sorprese. Perché l'abbiamo fatto? Perché il Foveon, sapete che è un sensore particolare, ha tre strati, quindi la risoluzione di 19 milioni di pixel in realtà va moltiplicata per tre, quindi raggiunge circa 45 milioni di pixel, insomma è effettiva, così dichiara Sigma, in sostanza l'equivalenza, se dovessimo paragonarla a un sensore Bayer avremmo praticamente circa 45 più o meno milioni di pixel e soprattutto la cosa interessante è che il sensore Foveon riesce a catturare tutte le informazioni colore, restituendo una gamma cromatica maggiore e un micro dettaglio teoricamente superiore ai sensori Bayer. La GFX 50 è un medio formato, sensore sensibilmente più grande di un sensore full frame, 50 milioni di pixel, matrice Bayer e ripeto una curiosità, molti di voi ce l'hanno chiesto, ci piacerebbe vedere la differenza tra un Foveon e un medio formato, se ne vedono poco in rete, insomma ripeto, chiaramente le due fotocamere non sono realmente confrontabili perché insomma nel medio formato ha, grazie a un sensore CMOS, alla tecnologia, la possibilità di andare ad alti ISO senza rinunciare troppo alla qualità d'immagine, le fotocamere Sigma sopra i 640 ISO cominciano ad avere un degrado importante dell'immagine, la gamma dinamica è sicuramente a vantaggio del medio formato, però chi sa ben utilizzare questi strumenti e viene dalla pellicola e cerca il look pellicola sa benissimo di che cosa è capace una fotocamera con sensore Foveon. Allora il test come l'abbiamo sviluppato e chiaramente abbiamo cercato di fare insomma del nostro meglio tenendo conto che sulla medio formata avevamo un'ottica zoom che comunque il 35-70 insomma che diciamo che l'ottica kit ma comunque è di ottima qualità e abbiamo utilizzato il 30 mm nei quattro art sulla nostra Sigma. Abbiamo cercato di utilizzare diaframmi mediamente chiusi per cercare di spremere tutto ciò che potevamo spremere dalle due ottiche, difficile fare un confronto tra una APS-C e un medio formato in termini di profondità di campo, di resa prospettica in base all'angolo e quindi alla distanza dal soggetto, insomma abbiamo cercato di fare del nostro meglio, tra l'altro in termini esposimetrici la Sigma comunque non so se è in grado di catturare più luce, il sensore o il valore ISO nominale non corrisponde a quello reale fatto sta che a parità di diaframma e di ISO avevamo sempre tempi molto più rapidi con la Sigma rispetto al medio formato Fuji. Abbiamo fatto del nostro meglio come abbiamo detto nell'altro video dove abbiamo confrontato il full frame Panasonic con la GFX50 cercate di essere elastici, intelligenti e non troppo fiscali prendete insomma questo confronto giusto come spunto di riflessione, ok, generale, insomma come così, come stimolo. Allora detto questo ragazzi andiamo a vedere il confronto, andiamo a vedere i test e poi tiriamo le conclusioni, andiamo. Allora andiamo a confrontare le nostre immagini di Sigma Foveon contro la nostra medio formato Fuji. Qui ragazzi il discorso è stato un pochino più complicato perché intanto noi con la nostra Sigma avevamo solo il 30 millimetri come focale che corrisponde circa a 45 millimetri mentre avevamo lo zoom, abbiamo cercato di ricreare più o meno lo stesso angolo di campo ma non era proprio simile, poi uno e due terzi, uno e quattro terzi e comunque cercavamo di non allontanarci troppo dal soggetto perché poi cambiava insomma in maniera importante la prospettiva. Quindi c'è un po' chiaramente di variazione a secondo del tipo di scatto tra un'immagine e l'altra, però insomma come sempre è giusto per farci un'idea soprattutto per quanto riguarda la resa cromatica. Vi ricordo che con Fuji ho convertito le immagini in TIF direttamente dalla fotocamera, che si può convertire insomma dall'interno della fotocamera, con la Sigma ho aperto i file con il software della Sigma e l'ho convertito sempre in TIF a 16 bit. Quindi questo è stato il processo, in fase di scatto abbiamo impostato entrambe la stessa temperatura colore, cioè 5200 gradi Kelvin, quindi tutto quanto uguale, ovviamente i profili colore sono diversi e attenzione al tema della triede sposimetrica. Perché? Perché con, vedete qui abbiamo la nostra Sigma, lo leggete sempre qui in alto eh ragazzi per intenderci, qui abbiamo un sessantesimo F4, un ISO a 125 e qui abbiamo ISO a 6 a 40, un cinquantesimo F8. Abbiamo alzato praticamente gli ISO per riuscire ad avere un tempo comunque eh abbastanza di sicurezza e e la profondità di campo, in questo caso ci sono due stop per cercare di creare più o meno la stessa profondità di campo tra un medio formato e un eh medio formato insomma Fuji e la PSC di Sigma. Poi le altre immagini invece avranno più o meno la stessa triede sposimetrica tenendo conto che comunque il i valori delle esposizioni di Sigma sono sempre un pochino diversi, cioè a parità di diaframma e di ISO con Sigma avremo sempre tempi di scarto più rapidi. Questo è un dato di fatto quindi abbiamo cercato più o meno di ricreare insomma un po' lo stesso look. C'è da dire poi che eh eh Sigma legge la luce in maniera diversa e quindi in alcuni casi tende ad avere un un contrasto diverso, una risposta alla luce diversa. Non è facile confrontare tecnologie così distante. Comunque proviamo a farci un'idea tanto per insomma cercare di comunque anche così di capire un pochino. Andiamo a ingrandire anche la nostra Sigma. Chiaramente qui la differenza di megapixel si fa eh sentire per cui eh cerchiamo di ricreare più o meno la stessa dimensione. Ok ecco qui praticamente le due immagini. Eh devo dire che la resa è molto diversa. Quella di Fuji sembra diciamo appena eh sottesposta rispetto a quella di eh della nostra della nostra sigma. In questo scatto proviamo a aumentare di un terzo di stop quindi cerchiamo di ricreare più o meno la stessa luminosità. Più o meno ci siamo. È chiaro che qui cambia anche il profilo applicato perché vedete che la zona eh posteriore sono un pochino più chiuse eh nei neri di Fuji rispetto a a Sigma ma ripeto insomma difficilissimo creare la stessa cosa. Mh quello che invece noto è la diversità del colore tra della giacca. La giacca il colore corretto era esattamente quello di Sigma e vi faccio notare che a mio giudizio ci sono anche più sfumature proprio nella giacca. Sono più eh sfumature ehm rispetto a questo qui di Fuji che sembra insomma abbastanza più monotono potremmo così definirlo. Andiamo a vedere il jeans. Ecco qui c'è differenza perché vedete che eh quella della di di quella di Sigma è appena eh fuori scala rispetto all'altra di ehm di di Fuji. Interessante notare comunque la pulizia del file. Qua siamo a 640 ISO contro i 125 ISO eh di fatto è più pulito il file di Fuji rispetto a Sigma però secondo me trovo invece interessante la resa cromatica che a mio giudizio ancora una volta quella di eh Sigma insomma si notano più eh sfumature. Anche qua nei pantaloni se voi notate insomma si notano più eh sfumature. Ripeto dipende un po' dal profilo eh che è stato utilizzato ma insomma eh comunque c'è differenza. Guardate anche qui anche sul sul legno della nostra panchina vedete come quello di Sigma a mio giudizio ci sono decisamente più sfumature eh cromatiche. Anche il terreno anche se qui insomma la luce mi sembra che abbia colpito eh in maniera un pochino diversa il terreno però mi sembra anche il terreno che ci siano più sfumature eh nel file della Sigma rispetto a quella di eh Fuji ma siamo veramente lì. Indietro è evidente come la gamma dinamica almeno con questo profilo sia superiore quella del medio formato rispetto alla nostra eh Sigma però in linea generale se andiamo a vedere l'immagine noi su insieme quella di eh Fuji mi sembra un pochino più tridimensionale forse però devo dire che eh la parte posteriore questa zona qui eh onestamente mi sembra più naturale quella di eh Sigma cioè il senso di realismo che io percepisco eh tra questa di Fuji e questa di eh Sigma mi sembra più realistica eh quella di Sigma ai miei occhi non sto dicendo che è meglio perché è bellissimo anche il file di Fuji però devo dire che mi sembra un pochino più realistica quello di Sigma. Andiamo a vedere una scena di eh in questo caso paesaggio allora eh qui abbiamo ISO 100 30 mm f11 è la nostra Sigma lo leggete sempre in alto e poi abbiamo ISO 100 eh f11 un cento venticinquesimo quindi ancora una volta c'è sempre un po' di diversità ma perché ragazzi ripeto mh la Sigma a parità di diaframme di valor ISO ti dà sempre tempi più rapidi insomma sempre una è una tridisposimetrica diversa quindi cercate insomma di avere le flessibilità mentale nel valutare soprattutto le zone più luminose quindi vedete questo bianco e questo bianco sostanzialmente si equivalgono come luminosità per cui diciamo che l'esposizione è molto molto simile eh per quanto riguarda la resa cromatica qui siamo con il nostro file della Fuji che devo dire che eh mi piace veramente molto e qui il file di eh Sigma ancora una volta così di prima acchito mi sembra più realistica l'immagine di Sigma anche se devo dire che quella di eh Fuji mi piace veramente molto eh la trovo molto bella la la resa del del file il livello di dettaglio è molto simile però mi sembra a vantaggio di quello di eh di Fuji insomma è chiaro che il file è che il file è proprio meno tirato ecco mi viene da dire in questo modo insomma mi sembra più pulito il file c'è più eh anche un pochino più di di chiarezza tra le due immagini anche se la differenza insomma non è eh non è mostrosa andiamo a vedere qui ecco qua c'è diversità sicuramente come timbro nel cielo devo dire che eh quello di Sigma è sicuramente più realistico notate quanto macchie di sporco c'è sul sensore insomma devo farlo sistemare comunque anche le sfumature io noto più sfumature un pochino di più nel file della Sigma rispetto a quella del di Fuji ma insomma siamo siamo lì andiamo a vedere qui invece più interessante la parte in basso devo dire un'ottima resa da parte di entrambe come dettaglio ehm mi sembra appena avvantaggio di eh Fuji eh come sfumature cromatiche forse è meglio la resa proprio della vedete qui le transazioni dalla del del terreno quasi senza erba con quella con più erba mi sembra che insomma sicuramente ehm la Sigma ha fatto ha fatto meglio non c'è non c'è ombra di tubio anche qui sul muro insomma mi sembra che ci siano più sfumature nella Sigma rispetto alla eh alla Fuji però il file della Fuji devo dire che è davvero molto molto appagante ok nuova situazione e qui ragazzi le differenze sono importanti qui ci troviamo di fronte a una vedete una luce molto laterale rispetto all'angolo di ripresa eh situazione molto contrastata e qui ragazzi è vero cambia un po' l'angolo di campo eh la stessa a parità diciamo di eh posizione del treppiede eh tutte le immagini sono state scattate ovviamente con treppiede eh ovviamente l'angolo di campo della PSC del 30 mm era un po' eh più più stretto insomma quindi c'è circa un 45 mm sul nostro sul nostro eh sulla nostra nel nostro sensore Sigma eh sono come come angolo di campo vedete 30 mm per 1.5 qui è un pochino più ampio avremmo potuto stringere francamente ma abbiamo fatto anche il test con le Panasonic e insomma infatti l'avete visto insomma in un altro video comunque a parte questo è molto interessante la resa eh proprio del della scena a mio giudizio eh questa di Sigma è nettamente più eh come dire verosimile cioè più vera si ha di più la percezione proprio della è più realistica mentre qui io vedo un verde molto più sparato assolutamente bello una bellissima immagine ma mi sembra decisamente meno eh veritiera insomma la la resa eh dell'immagine qui vedete i colori sono più vibranti magari può piacere di più però io qui vedo molto molto più eh realismo rispetto a questa di Fuji che forse ripeto è più pagante proprio per la eh la resa vibrante del colore ma ovviamente con Sigma si può tranquillamente aumentare la eh saturazione eh però le foglie mi sembrano assolutamente più realistiche come come tono di di verde andiamo qui guardate questo verde è veramente molto sparato e questo è un verde molto più realistico insomma sono foglie eh di fine estate che inizia autunno qui insomma mi sembra veramente un verde un po' troppo acceso un po' troppo con i posca e sicuramente non è tipico qui delle zone insomma di di Parma quindi il il la il realismo che ti dà il file derivante dal foglio è nettamente superiore a mio giudizio rispetto a quello dell'isk trans lo si può vedere in diversi scatti in questo la differenza secondo me è veramente marcata è veramente evidente allora andiamo a vedere un po' gli incarnati qui andiamo a ingrandire Fuji e Sigma allora qui cambia molto il contrasto vedete che le ombre sono più chiuse e quelle di Sigma sono più aperte eh qui abbiamo sostanzialmente eh c'è solo un terzo di differenza tra l'altro dovrebbe essere più luminoso questo di Fuji perché questo è un centesimo e quello di Sigma è un centoventicinquesimo vedete quanta luce in più comunque capta il sensore ora è difficile dire se è un discorso di sensore se è una questione di valore iso che magari quello reale non è corrisponde a quello nominale ma insomma fatto sta che la differenza è piuttosto evidente devo dire che entrambe mi piacciono molto anche il micro dettaglio sul muro lo trovo ottimo in tutte e due eh i file andiamo a ridurre appena appena così sovrappioniamo un po' le dimensioni eh quella di Fuji mi sembra decisamente troppo carico anche se devo dire che mi piace molto è una resa insomma del file Fuji meglio formato che apprezzo veramente tanto quella di eh di Sigma ancora una volta la trovo decisamente più più realistica c'è tanta differenza come secondo me come luminosità proviamo a aumentare di un terzo di stop vediamo se eh sono più simili sì sono un pochino più simili però vedete che le zone dei neri in questo caso sono più chiuse eh comunque rimangono più chiuse proviamo ancora andare a un pizzichino di luminosità in più ma insomma siamo sostanzialmente lì eh è proprio una resa diversa anche il timbro della della giacca vedete questo è molto più eh naturale molto più ancora una volta la trovo realistica rispetto a questa che mi sembra più una riproduzione eh del del colore fatta in digitale andiamo a vedere i jeans in questo caso resa abbastanza simile da parte di entrambe insomma sfumature sul muro anche qui entrambe fanno molto bene io trovo semplicemente più realistica la resa della Sigma ma ancora una volta mi piace veramente molto il file eh Fuji ok qui siamo ritratto eh andiamo a vedere le due immagini allora questo è il file di Fuji e questo è il file di eh Sigma andiamo a ingrandire entrambe e diciamo appena così diventa sovrapponibile perfetto e qui ragazzi vi devo dire la verità trovo molto più interessante il file di Sigma eh forse il software probabilmente dal software si può ridurre un pochino la chiarezza ci si può lavorare per rendere appena appena più morbido lo trovo quasi in alcuni punti forse quasi spigoloso il file della della Sigma ma insomma la resa è veramente notevole e qui si vede di più le sfumature cromatiche mi sembra evidente che eh l'incarnato qui del volto di Roberto sia un pochino più monotono ci sono sfumature sicuramente nel file della Fuji ma nel file della Sigma le differenze sono più marcate c'è sempre una diversità ancora una volta vedete di risposta alla luce se noi andiamo a dare un pochino più luce per cercare di rendere più o meno equipollenti i due i due file insomma il risultato non cambia la resa dell'incarnato di eh della Sigma eh ti dà sempre qualcosa di più realistico di più autentico almeno questa è la mia sensazione la mia impressione ovviamente voi potete non essere d'accordo per l'amore del cielo però anche qua vedete il giacchetto il tessuto della giacca come più a tinta unita rispetto a questo qui di eh di Sigma quindi personalmente eh quello che sto notando è che le immagini di Fuji sono bellissime del meglio formato Fuji sono bellissime ma eh le immagini di eh Sigma seppur ovviamente eh con un file un pochino più tirato e più piccolo ovviamente rispetto ai 50 milioni di pixel eh della medio formato Fuji comunque risultano più realistici questo ripeto è la mia sensazione eccoci qua ragazzi allora siamo tornati avete visto il confronto direi che nonostante ovviamente un medio formato eh con tecnologia CMOS eh è in grado di offrire performance ad alti ISO e gamma dinamica superiori non abbiamo fatto il test perché non aveva senso francamente non c'era neanche partita eh ma in termini di resa colore secondo me insomma le due fotocamere se le sono date qualcuno ha vinto magari in un round qualcuno ha vinto nell'altro personalmente il mio giudizio che mi fatto è che se il file ovviamente della medio formato Fuji è un file più duttile più versatile senza ombre di dubbio più grande quindi con una definizione maggiore per una stampa eccetera eccetera è anche vero però che secondo me il senso di realismo eh il le sfumature colore comunque sono avvantaggio del fogano questa è la mia opinione personale ed è per questo che io continuerò a utilizzare questi strumenti per alcuni tipi di fotografia eh ritratti e eh paesaggi il tema della gamma dinamica un problema marginale perché si può tranquillamente gestire con una corretta esposizione con l'uso di filtri di gradanti nella fotografia e paesaggistica quindi a mio giudizio è un tema eh diciamo che facilmente gestibile anche con queste questi strumenti eh quindi io continuo a preferire il look del foveon per il senso del realismo che è la cosa che a me più di tutti eh interessa nelle immagini ehm come resa ovviamente poi mi interessa soprattutto il contenuto questo è scontato però devo dire che eh la medio formato Fuji insomma eh ti dà quella plasticità una rotondità e con le ottiche giuste uno stacco dei piani che è veramente fantastico insomma e fa una grande differenza poi sul look finale dell'immagine però come sempre ragazzi queste sono le nostre considerazioni e le cosa pensiamo cosa penso sono sempre curioso però di sapere il vostro giudizio a patto che sia un giudizio sensato corretto educato perché chi scrive poi commenti maleducati o non argomentati vengono semplicemente eliminati quei commenti perché qui nessuno vuole eh giudicare un sistema o l'altro stiamo semplicemente così facendoci un'idea empirica se vogliamo anche un po' grossonana di ehm due sistemi ma che comunque degli input secondo me interessanti comunque ce li danno fatto sta che un sensore APS-C con una tecnologia Foden almeno a bassi ISO sotto alcuni punti di vista può competere e in alcuni casi superare un medio formato con tecnologia Bayer ma aspetto i vostri commenti ciao ragazzi